La Giunta ha definito oggi una delibera approvata in via preliminare che riguarda il superamento delle barriere architettoniche. Di cosa si tratta e quali saranno i passi successivi? Era necessario rivedere un regolamento che era piuttosto datato e creava una serie di problemi burocratici che quindi ritardavano l'erogazione dei contributi a coloro che facevano domanda di intervento per il superamento delle barriere architettoniche. Questo regolamento oggi è stato approvato in via preliminare, farà passaggi di consultazione in particolare con il Consiglio delle Autonomie Locali e soprattutto con la consulta dei disabili. Contiamo di farlo nel giro di un paio di settimane di modo che poi il regolamento viene varato in via definitiva e potremo finalmente dare corso e accoglimento alle domande che ci sono su questo tema. Un altro provvedimento riguarda invece i pediatri di libera scelta. Cosa avete deciso? In realtà con i pediatri di libera scelta c'è già un accordo regionale integrativo che però aveva delle parti mancanti, aveva delle lacune. Ci siamo incontrati, peraltro con questa categoria abbiamo incontri periodici anche perché sono una categoria molto importante perché sono di fatto sul territorio, gli specialisti della pediatria sono quelli che si fanno carico di tutte le patologie. Come sappiamo oggi i bambini vanno molto poco in ospedale, i reparti ospedalieri sono poco utilizzati per fortuna e però c'è la pediatria sul territorio che funziona e che funzionerà per quello che stiamo vedendo sempre meglio perché la stiamo organizzando al meglio. E poi sono anche i nostri grandi alleati sul tema delle vaccinazioni dei bambini e diciamo che insomma è una categoria che con la regione ha una forte alleanza per la cura dei piccoli bambini.